Buongiorno dottore, no anzi, c'è un bel clima per il nato lizio, c'è addirittura un totopremio nell'ufficio su che sale e che scende, cerco la voce che anche i premi di chiunque saranno maldi, sembra che io non sono tra i fortunati. Magari una parrucca, un abito da lolita e tacchi martegginosi. Che trucco preferisci? Dove voglio incontrarmi? So che questo tipo di vocale è molto trasgressivo, perché no? Grazie a tutti.